Sì, quest'anno ci sono state parecchie difficoltà nell'organizzazione e ammetto che ha fatto tutto il mio collega qua Luigi Molinengo che presento, però nonostante tutto siamo riusciti a tirare su tutto questo con qualche accorgimento in più per quanto riguarda la sicurezza, ma nonostante tutto siamo riusciti a mantenere abbastanza la normalità via, almeno a me mi sembra di vedere gente normale che fa festa e si diverte e condivide il proprio tempo con gli altri. Grazie a tutti, faccio ancora un ringraziamento particolare a tutte le aziende del territorio, grandi, piccole, i piccoli negozietti di Costigliole che hanno deciso di sponsorizzare la 83esima Sagra dell'Uva Quagliano e di dare un contributo alla Proloco, un contributo quest'anno più che mai fondamentale per coprire tutte le spese necessarie per il contenimento del Covid e a loro e a tutte le aziende del territorio che hanno saputo dimostrare sensibilità verso le realtà locali un grande, grande grazie.